Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio che sono comparsi in queste ore sul web per la scomparsa del noto calciatore. Aveva giocato per la Juventus, il Cagliari e il Cosenza. Il suo ruolo era quello di terzino sinistro, anche se all'inizio della sua carriera aveva giocato come marcatore. Il suo punto di forza era la velocità che gli permetteva di effettuare buoni recuperi e di sfidare a tu per tu gli avversari. Il temperamento sul campo era quello di un giocatore d'altri tempi. A lasciarci è Silvio Longobucco, morto all'età di 71 anni. Con la Juve, Longobucco vinse ben tre scudetti a fronte di 47 presenze. Poi passò in Sardegna, dove come giocatore del Cagliari scese in campo per sette stagioni. E di fatto, nel suo ruolo di terzino, fu tra gli artefici della promozione in Serie A. Tra il 1978 e il 1979. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.